Un nuovo Fiat Doblo particolare che scorrerà per le vie di Montesilvano a confermare questa vocazione sociale e attenzione per le persone più deboli da parte dell'amministrazione comunale. Sì, ormai è un filone ampiamente aperto quello del sociale per noi e soprattutto quello dell'attenzione per la disabilità. Ormai sono tanti i campi che poi è sempre lo stesso, soprattutto quello della sensibilità in cui si opera. E a tal proposito voglio ringraziare tutte le ditte che sono intervenute affinché anche questo progetto si potesse portare in porto. Le ringrazio vivamente perché hanno creduto nella bontà di questo progetto e con il loro contributo riusciremo a portare i disabili dove loro vogliono. Questo è un mezzo che verrà dato poi all'azienda speciale e quindi tutti i servizi sociali potranno utilizzare questo mezzo. I principali fruitori di questo mezzo chiaramente sono le persone in difficoltà, quindi parliamo di disabili, parliamo di persone anziane, parliamo di persone che devono fare delle fisioterapie particolari, che devono andare negli ospedali per visite particolari e che altrimenti non avrebbero la possibilità di poter essere accompagnati. Il mezzo è dotato di una carrozzella, di un elevatore di carrozzelle e quindi questo ci permette anche di accompagnare le persone nei posti di lavoro. No si permette anche di stare attività! No!